bravo quelli mi nomina nemmeno forza ragazzi ma ti dico una cosa parte ninja non sei proprio un guerriero perché solo come te è più forte al mondo e di carità uno cascava per terra ma c'è proprio il più forte del mondo io sono più forte dei popoli di tutti tanta stima per ninja ma che sei un altro io lo amo un guerriero e dopo lo faccio la pittà noi stiamo a pregare stiamo a pregare io potevo andare via uguale intanto il cazzo me ne fregava se poi mi insultavano pianisci nel ninja pianisci nel ninja ha detto bene io sono contro la juve io odio la juve davano senato non è se io davano ti giuro non sto scherzando ti amo prima di arrivare a cagliari andiamo alla juve a prescindere quindi io arrivando anche a niente ma che non mai sei di roma ma te stava a cagliari hai state bella a ninja mobile io odio la juve se potevo vincere con cagliari contro la juve ti giuro avrei dato oppure le mie le mie accoglioni per vincere la partita perché io odio la juve quando stavo a cagliari io non ho mai perso alla juventus stadium con il cagliari ah davvero questa ma no solo pareggiato col cagliari pure pensa teo hanno vinto solo scudetto quando abbiamo giocato a trieste juventus stadium mai perso e odio la juve perché hanno sempre vinto per un rigore rubano sempre mamma non lascia che ha deciso mamma non lascia che ha deciso io sono venuta alla roma perché voleva vincere qualcosa con noi e noi vinceremo qualcosa finché sta con noi vincemo qualcosa con quelle merda che spero tanto perché ancora se lo ricordiamo noi c'è brucia a noi c'è brucia siete fido noi abbiamo due partiti con la laccia semifinale li vinciamo tutti e due dai alì già dai e dopo tornare qua se abbiamo una cosa mai perso tu diventi no tocchi del più ti rimane fatto ma lui guarda che già è qualcuno a noi già qualcuno